Allora stiamo sempre parlando di carne di qualità di filiera controllata adesso di benessere animale vedremo anche cosa vuol dire benessere animale perché tante volte nel settore pari delle carni non è ben compreso forse più facile da capire quando si parla di manze da latte insomma di mucche da latte che non di manzi da consumo manzi da consumo però la domanda che mi poniamo è questa se io voglio per me per i miei figli eccetera mangiare carne senza antibiotici c'è una normativa europea di obbligo di etichettatura quando non c'è l'antibiotico c'è una legge italiana che ha ricepito la direttiva c'è un qualche cosa che può aiutare il consumatore verso questo tipo di scelta oppure no perché effettivamente qua si parla di salute e benessere umano oltre che benessere animale allora bisogna innanzitutto premettere che per legge la carne che viene venduta parlo di carne bovina non deve deve essere riferita ad animali che non sono stati trattati con antibiotici negli ultimi 60 giorni di vita 60 giorni che non sono pochi comunque perché l'animale fa in tempo anche ad espellere gli eventuali antibiotici che che ha ricevuto perché dobbiamo anche ricordare che come l'essere umano se un animale si ammala è doveroso curarlo e quindi poi la carne che viene immessa nel mercato al consumo è chiaro che deve essere comunque una carne che ha le caratteristiche per essere mangiata quindi questo lo dobbiamo assolutamente dire in premessa perché altrimenti qualcuno si potrebbe preoccupare per dire oddio mangio la carne con antibiotici il percorso di a zoe è stato quello di voler garantire una carne con caratteristiche ulterior ulteriormente nobili no tra l'altro allevare un animale senza antibiotico negli ultimi sei mesi di allevamento è un periodo lunghissimo per un animale perché rispetto per esempio un pollo che ha una durata una vita molto più breve può risultare più facile un animale come un bovino invece è effettivamente un traguardo estremamente importante deve stare in salute quindi deve stare in salute non si deve ammalare non deve prendersi nessun tipo di problematica di malattia quindi una attenzione massima proprio questo proprio questo infatti quando prima raccontavo del progetto dal lato zootecnico volto a migliorare le tecniche di allevamento andava esattamente in questa direzione no per capire come fare ad allevare gli animali affinché si ammalino il meno possibile e ci siamo riusciti ci siamo riusciti con una serie di tecniche identificando i lotti monitorando ovviamente attentamente gli animali e questo grazie anche alla presenza dei tecnici dell'assistenza costante di a zoe mettendo appunto tutta una serie di iniziative ma aggiungo anche con la raccolta di dati perché poi i dati sono estremamente importanti per leggere le situazioni ricavarne delle informazioni e di conseguenza grazie a tutto questo percorso siamo riusciti a creare una linea di prodotti che noi abbiamo chiamato a zoe zero proprio per l'assenza di antibiotico oppure se lo vogliamo leggere zero inteso come nessun dubbio sull'assenza di antibiotici nel trattamento dell'allevamento degli ultimi sei mesi ma questa assenza di antibiotici normalmente nella carne bovina deve essere indicata oppure no di default se io voglio se io azienda voglio lo indico oppure di default dovrebbe essere che gli ultimi 60 giorni non c'è stato per legge è negli ultimi 60 giorni dopodiché a zoe è riuscita a fare questo prodotto ma sono in pochissimi a proporre questo tipo di prodotti perché implica un'attenzione un lavoro grossissimo alla base esatto questo e dall'altra parte significa anche poter avere tutto il controllo della filiera che pochi hanno perché normalmente magari comprano i bovini li lavorano mettono la carne al consumo ma in realtà la particolarità e il valore della filiera di a zoe di cui parlavo prima è proprio questo la possibilità di avere effettivamente il controllo il posto della situazione e le informazioni a 360 gradi dall'arrivo degli animali piccoli da allevare fino alla lavorazione e alla vendita della carne e questo è un plus che ci consente di offrire un prodotto con queste caratteristiche ma pochi sono in grado di farlo ma come mai scrive un nostro telespettatore la carne del trentino è molto più gustosa hanno filiere o disciplinari diversi o è l'altitudine? beh allora pascoli di montagna è sempre molto poi soggettivo il gusto della carne sicuramente sappiamo che tutto quello che proviene dai pascoli o che proviene dalle altitudini ha un sapore più intenso potrebbe essere questo tra l'altro mi da spunto il telespettatore per aggiungere che stiamo definendo un sistema di qualificazione delle caratteristiche della carne con dei raggi infrarossi nel nostro sistema all'interno del nostro impianto di lavorazione stiamo mettendo a punto questa tecnologia affinché si possa capire già da subito l'amarezzatura della carne cosa è l'amarezzatura della carne? sono quelle leggerissime infiltrazioni di grasso nella carne che ne danno il sapore quindi è importante per garantire un prodotto di altissima qualità e gustoso come faceva riferimento il nostro telespettatore però molto dipende anche dall'alimentazione dell'animale cioè dalla vita dell'animale che senza dubbio una volta parlavano anche di mucche felici in Giappone sono stati i primi a inventare questi massaggi le mucche, queste docce per rinfrescarle d'estate per rendere le musiche nelle stalle che sono partite anche dagli Stati Uniti in modo da rendere questi animali con la serotonina con questo stato di benessere che viene trasmesso in qualche modo anche alla carne ma anche l'alimentazione è importante e si è puntato tanto nell'informazione in generale a far capire cosa l'animale mangia o dovrebbe mangiare cosa non mangia quindi forse l'animale da pascolo in montagna, in zone non inquinate si nutre in modo più naturale, può essere? può essere, poi dobbiamo considerare comunque che nel territorio italiano non è che ci siano grandi spazi per gli allevamenti quindi il pascolo rimane un'entità limitata in questo caso parliamo di allevamenti da reddito ma, sottolineo, con tutte le attenzioni la massima attenzione rispetto all'animale e in questo senso da tanti anni Azove sta lavorando proprio per garantire il benessere animale quando ancora non si parlava di questa tematica infatti adesso diventa anche eticamente importante sotto certi profili infatti è giusto che sia così solo per dare un'informazione a questi telespettatori è vero che la carne da noi adesso non so se anche da voi come Azove arriva dalla Francia per lo più? diciamo che le razze più pregiate arrivano dalla Francia si chiamano scirolet, limousine e quindi sin da principio Azove ha voluto andare a selezionare le razze migliori poi l'allevamento avviene qui in Italia ma la provenienza principalmente dalla Francia quantomeno quella che abbiamo preferito noi nel corso del tempo offrire ai consumatori ma perché non farle nascere qui da noi? noi non siamo attrezzati? non ci sono gli spazi perché per esempio in Francia vengono lasciati al pascolo la Francia ha dei territori grandissimi dove gli animali sono al pascolo e quindi lì vengono selezionati e portati in Italia in Italia non abbiamo geograficamente gli stessi spazi anche se tra l'altro adesso stiamo iniziando abbiamo ideato un progetto attingendo i fondi del PNRR e che questo è guardando al futuro un passo importante lo potete fare perché avete i numeri per poterlo fare? abbiamo i numeri abbiamo presentato e siamo tra i primi in lista però tengo le dita incrociate perché ancora non possiamo partire un progetto di 50 milioni di euro nel quale abbiamo coinvolto i nostri soci allevatori perché c'è chi deve rimodernare le stalle chi deve acquistare macchinari, impianti per anche tecnologicamente avanzati perché poi è importante guardare anche alla tecnologia in un'ottica da parte di Azov anche di un risparmio in termini di consumi energetici e assieme a un'altra cooperativa della Sardegna il cui obiettivo è quello di valorizzare una razza italiana quindi razze di provenienza della Sardegna e in tutto questo ci accompagnano due importanti università Padova e Sassari ma questa razza italiana è anche in via di estinzione? sono animali che nascono e vengono allevati in Sardegna nelle campagne della Sardegna ma non ci sono ancora tecniche avanzate per effettivamente migliorare geneticamente queste razze e quindi assieme si vuole condurre questo studio per riuscire a valorizzare anche una razza italiana vabbè insomma sarebbe anche una cosa importante e un altro messaggio io credo che in Veneto anche la carne è un'eccellenza ma se ne parla poco sembra che in Veneto esiste solo il prosecco il radicchio e l'asparago si potrebbe fare di più per questo grande prodotto è vero l'informazione è importante ed è quello che cerchiamo di fare anche perché poi negli ultimi tempi sappiamo che gli allevamenti sono magari presi di mira per l'inquinamento o ovviamente ci sono sempre più tendenze verso l'alimentazione, verso il vegetale se non addirittura le carni sintetiche e questo è un altro capitolo ma l'informazione è importante perché altrimenti effettivamente gli allevatori vengono passati per gli inquinatori ma non è così perché in realtà anche in questo senso sono stati fatti tutta una serie di studi per ridurre le emissioni di gas in atmosfera poi per esempio vengono utilizzati anche gli impianti di gas per la produzione di energia elettrica negli allevamenti quindi hanno fatto davvero tanto gli allevamenti ma servono anche fondi per comunicare perché poi comunicare ha un costo il settore sicuramente non gode di grandissime marginalità e di conseguenza non è facile arrivare ai consumatori con un'informazione massiccia al pari invece di purtroppo certe lobby che hanno un potere grandissimo e quindi spingono l'informazione in una certa direzione Per effettivamente il discorso del consumo della carne qui ci rilasciamo anche all'evento che lo avete festeggiato non a due giorni di 50 anni dell'azienda con la presenza di tanti esperti in vari ambiti e anche di un medico un dirigente medico dell'azienda ospedaliera esperto di alimentazione avremo anche l'opportunità magari di averlo con noi in trasmissione dove è spiegato anche i valori nutritivi della carne perché si punta anche il dito sul fatto che la carne non faccia bene la salute insomma si è detto di tutto e di più partendo forse anche da presupposti a volte diversi da quelli poi italiani cioè la carne negli Stati Uniti è un certo tipo di carne e se poi la viene cotta stracotta e bruciata è pericolosa da noi c'è anche un consumo quantitativamente anche diverso però è importante anche sapere questo cioè quindi che non necessariamente fa male dipende da quanta la mangi come la mangi e come la prepari esattamente è stato fatto un passaggio in questo seminario importante il dottor Francini dell'Università di Padova ha fatto chiarezza riguardo a tante informazioni sbagliate che ci arrivano e faceva proprio questo esempio gli studi che sono stati condotti all'inizio degli anni 2000 quando poi è scattato l'allarme la carne è cancerogena proveniva da dati che di hamburger e diceva magari gli americani mangiano gli hamburger assieme ci mettono le salse oltre alle salse ci aggiungono le bevande zuccherate magari le cucinano pure in maniera sbagliata e di conseguenza è chiaro che quel tipo di cibo non può essere mangiato tutti i giorni e mangiarlo con una certa frequenza comporta dei rischi al contrario ha spiegato che l'uomo nel corso del tempo invece si è evoluto proprio mangiando carne si parla quindi di carne di qualità di carne che si accotta in maniera naturale che si accotta bene e di conseguenza dal punto di vista nutrizionale ha grandissimi valori ed è importantissima per la salute ovviamente è altrettanto importante diversificare ma non possiamo bandire la carne che resta un alimento prezioso per la nostra salute e per la crescita anche dei bambini e anche per la crescita dei bambini le proteine animali hanno un altissimo valore insomma sono proteine nobili sostanzialmente esatto quindi tutto è modus in rebus ma soprattutto con informazione con la conoscenza torniamo insieme perché parliamo anche abbiamo visto il benessere degli animali ma anche il benessere dei lavoratori all'interno delle aziende è solo un altro bene inestimabile e come lavora una persona come si trova una persona poi ne viene fuori anche il risultato del prodotto del servizio che viene offerto è un tema che vi ha coinvolto e ne avete tratto spunto proprio per approfondirlo nel corso di questi due giorni particolari e vogliamo parlare anche di così dove si lavora come si deve lavorare perché tanti giovani sono reticenti a entrare in certe realtà aziendali dopo la pubblicità grazie a tutti grazie a tutti